Avete prestato dei soldi a una persona e questa non ve li vuole più restituire? Non potete denunciarla. Non sta infatti commettendo alcun reato. Al massimo potete citarla in un tribunale civile affinché il giudice la condanni a darvi ciò che è vostro. Si tratta però di una normale azione di recupero crediti. E le spese legali le dovete anticipare voi. Avete invece affidato dei soldi a un vostro amico affinché giocasse la schedina al posto vostro, ma lui li ha spesi per altri scopi senza dirvi nulla? In questo caso potete denunciarlo. Il vostro amico ha commesso un reato. Tra queste due situazioni apparentemente simili passano un mare di differenze. La mancata restituzione del denaro può essere appropriazione in debita solo in alcuni rari casi. Di questo voglio parlarvi nel video di oggi. Voglio cioè spiegarvi quando non restituire i soldi è reato. Allora, mentre lanciamo la nostra sigla, iscrivetevi al canale per sapere in ogni occasione come si interpreta la legge italiana e come uscire dai guai legali. E non dimenticate di azionare la campanella degli avvisi. Ma ora, sigla! Questa è la legge! Chi presta del denaro a un'altra persona e non ne ottiene la restituzione nei tempi concordati può solo agire in via civile per il recupero del proprio credito. Può cioè chiedere se è in possesso di un documento scritto che dimostri l'esistenza del prestito un decreto ingiuntivo. In assenza di prove scritte deve invece avviare una regolare causa civile. Non può però attivare alcuna tutela penale. Non restituire il denaro avuto in prestito non confiura infatti un reato. Salvo in un solo caso, quando il debito viene contratto con lo scopo di frodare il creditore. Facciamo un esempio. Marco ha rubato degli oggetti sul lavoro e ha appena ricevuto una lettera con il preavviso di licenziamento. Immaginando già che di lì a breve rimarrà senza lavoro, per accaparrarsi il denaro necessario a vivere si reca presso una finanziaria per chiedere un prestito. Come garanzia offre la propria busta paga, ma non fa alcun riferimento all'imminente provvedimento disciplinare. La finanziaria gli eroga il prestito, ma ben presto Marco perde lo stipendio e non può più adempire alle rate. Nell'esempio che vi abbiamo appena fatto, Marco ha agito con dolo, ossia con l'intenzione di procurarsi del denaro con la consapevolezza di non poterlo restituire. Mirko si reca alla pompa di benzina, fa il pieno e poi paga con la carta di credito. Il gestore però gli fa notare che la banca ha rifiutato la transazione, forse sul suo conto non c'è denaro a sufficienza. Di tanto Mirko era già a conoscenza. Il titolare del rifornimento, non potendo più riprendersi il gasolio già erogato e mischiato nel serbatoio dell'approfittatore, decide di denunciarlo. In questi due esempi non siamo in presenza di un semplice inadempimento, ma di un comportamento fraudolento e premeditato, volto cioè a far credere all'altra parte di avere la possibilità di adempire al debito. In tali ipotesi è possibile denunciare il debitore per il reato di insolvenza fraudolenta. Facciamo ora un terzo esempio. Giovanna chiede 1000 euro all'amica per sottoporsi a un intervento estetico. L'amica glieli concede, ma ne chiede la restituzione entro un anno. Giovanna però non è oculata nelle proprie spese e dopo 12 mesi non è ancora riuscita a mettere da parte i soldi per ottemperare al proprio impegno. Nell'esempio appena fatto, il creditore non può denunciare il debitore, in quanto il comportamento di quest'ultimo non è doloso, tutt'al più colposo, privo cioè di quella cautela che consiglierebbe al debitore di sospendere ogni spesa se ancora non ha adempiuto al proprio dovere. Fatto sta che l'amica di Giovanna può solo agire contro quest'ultima per ottenere un decreto ingiuntivo e poi pignolarle i beni. Diverso è il caso in cui una persona affidi del denaro a un'altra affinché questa li impieghi secondo uno scopo specifico. Matteo affida a Roberto 200 euro da dare all'amministratore di condominio per le spese mensili, ma Roberto li usa per andare a cena con gli amici. Silvana affida al proprio fidanzato Edoardo 5000 euro per organizzare il loro matrimonio. Edoardo però fa saltare il fidanzamento e decide di spendere i soldi per un viaggio da solo. Diana affida al fratello Rocco 1000 euro per pagare le tasse della successione del padre, ma Rocco paga un proprio debito. In tutti questi casi siamo in presenza di un reato, quello cioè di appropriazione in debita. A differenza delle ipotesi che abbiamo visto prima della mancata restituzione del credito, qui il passaggio del denaro non determina un trasferimento della proprietà sui soldi, ma solo uno spossessamento. Il colpevole dimostra altresì coscienza e volontà di appropriarsi definitivamente delle somme, sapendo di agire senza averne diritto. In sostanza, ciò che determina la responsabilità penale qui è proprio la violazione della fiducia riposta dalla vittima nei confronti del proprio compagno. Secondo la giurisprudenza è configurabile il reato di appropriazione in debita quando un soggetto consegni una somma di denaro con una specifica destinazione di scopo ad un altro soggetto e questi fa dei soldi ricevuti un utilizzo differente del tutto personale. La violazione della fiducia, infatti, integra una condotta penalmente rilevante. E sapete perché? Perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.